Ciao ragazzi, oggi è il valore della essenzialità. Sentiamo cosa ci dice. L'essenzialità nasce dal valore dell'unità che si sposa con quello della libertà, a significare che divenire essenziali nei pensieri, sentimenti e azioni è estrema arte di dominio dello spazio-tempo. L'essenziale è racchiuso in una cerchia d'amore in cui la libertà creativa assorge al centro. Suono, rendo vere tutte le cose. Luce, getto la maschera e svelo chi sono. Colore, tolgo i filtri del superfluo scoprendo la struttura d'origine. Vibrazione, metto a nudo l'apparenza e il vero si mostra. Azione, libero dall'illusione, il cuore della vita. Ecco il simbolo della essenzialità con i suoi mantra. Tutte queste carte dei valori le trovate su animaribelle.org e potete acquistarle su fraternity.it che è il sito ufficiale da cui anche animaribelle.org deriva dunque l'essenzialità. Essere essenziale significa andare direttamente alla fonte alla fonte della verità dentro di noi, qui nel nostro cuore c'è la fonte della verità e quando noi attingiamo dal cuore attingiamo a quella verità e lì c'è l'essenza della vita l'essenza di ciò che siamo cioè pulviscolo di stelle possiamo anche dire che siamo figli delle stelle e questa è la grande verità che dobbiamo riscoprire in noi ritornando alla nostra essenza sì, sì, sì